Allora, faccio da in centro un miacchi In due palata Ok Sa dai A cosa sai Centro Non tengo l'ossidio Non così Ma poi faccio il coronario Ma Sa dai Non muoierai Tocca voi Allora attacco il corretto di comiacchi Quindi scappo da questa parte Vado a destra Vado a sinistra E lo tosci La mano destra non si sposta Da sinistra Va a incastrarsi all'interno Miacchi Trovo Ancora Miacchi Impagno la vicenda Ancora da quella parte Sì So dai Sì Ho detto il comiacchi Delle sinistra è già a posto Mi devo apprendere lui E con le gambe Sotto il bene Soltare sotto Corretto Sotto il comiacchi Allora Uno 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 dalla vostra mano che spinge, non impurevo lì. Così se il braccio è forte, sono mandati. Potete infilare sotto il palmo della mano per utilizzare bene la porta del braccio. Se tenete la presa, il punto diritto funziona. Deve stare così per spingere sui braccio e che ci sono. E' un G.I. con il piano. E' un G.I. con il piano.